Alla registrazione Dopo le troppe Buonasera Buonasera Finalmente riprendiamo Dopo un po' di tanto tempo Però non è partito il caricamento Quindi io pensavo di aver cominciato In realtà non è vero Mi dispiace, vi dobbiamo far vedere il caricamento infinito Avrei volentieri fatto prima di cominciare il caricamento Ma Nope Dovrei cambiare il titolo allo streaming Quella è una buona idea L'approfitto della pausa Siamo riusciti La pausa è obbligatoria Testiamo anche tutto il nuovo hardware Magari migliora un po' la qualità Abbiamo messo anche la webcam Resident Evil 7 Che la paura sia Con voi Io sono raffreddatissima Però vabbè Sì, lei è raffreddatissima È simpatica Anche tu Mene mia Simpaticissima Siamo raffreddatissimi Tanto ancora lì Devo andare Fammi giusto vedere Se è up Intanto Un giorno quel caricamento finirà Funziona Alla Appare online Andiamo se carica Non si parte Volume, volume, volume Insieme a volume Da tv E poi moriamo appena sparo Allora I miei proiettili in eccesso Comunque Comunque Non è che Si notti Granché Il downscaling Full HD È comunque bello No Non è 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 Che devo fare Io non mi ricordo Trova gli ingredienti del siero Risolvi l'enigma nella stanza dei genitori Stanza dei genitori Dov'è? Vai distanza dei genitori? Di sopra Piano di sopra Piano di sopra? Si Stanza dei genitori Ah Si Che mi dovevo mettere Che dovevo tenere lo spazio Della videocassetta E le altre cose Ah giusto Era una Quella era della casa dei bambini Eh vabbè Era questa no? Si Che tipo Cramura Senta dei bambini No Che pure Ce la per cosa La cremura Ah questo Così Signora No Non l'hanno visto Così però Di vero Antigravitazione Non mancano mai Eh Non è Non è Non è Qua ci siamo stati Vabbè si Quello è Quello che abbiamo preso Già Beh Questo Indecisamente preso Qua non c'era nient'altro L'enigma è solamente Un orologio Però per ora Non so Nessamente dove andare a cercare un orologio A fare un orologio Questa foto Assomiglia Jack entra Nel mio Nenzo Jack è quello che ho ucciso Probabile Si Per adesso Io sono abbastanza confidente Che nella casa Mi ha fatto le biendizie si fa sinistra si fa sinistra ti sono liberato gli spazi io lo trovo che si li aveva visto si deve essere ben lette tutte i trofei li avevamo già preso li avevamo già aperto si era questo pallone mi ricordo però è un normale pallone adesso ce l'ho di spazi non c'è la scala davanti ai tuoi occhi non cazzo non c'è la scala non c'è la scala non c'è la scala ma a me dà che lo streamer è offline non vorrei che tu mi abbia messo fretta attimo controllo e non si è partito no la trasmissione è live vediamo ora guardiamo i posti allora si forti no non do non buon compleanno Qua c'era qua, ah no aspetta qua c'è da mettere cos'ha Beh la cosa c'è La figura, la donna e la ginocchiata di fronte è una folla Questo? Oh si Ok questo l'avevo già fatto E si era aperta la casetta Ok quindi la scheda questa parte è fatta Niente adesso infatti mi da risolvere l'enitmo nella stanza dei genitori Perché è la stanza dei figli e i bambini C'è anche questa riproduzione di fucile che io ho contentato Di Io non mi servo un'estanza dei genitori qui sto dal momento Mi spiace ma sono un coglione perché se con due spazi E allora vaffanculo non posso neanche usarla So per fare una cosa orribile Non voglio trovare Oh no è offline No non ne ho Eh è un twist per un po' benissimo Cosa mi succederà adesso Aspettavo la non mia da qualche fatto Invece no Non vedo la videocassetta Invece no Cosa mi dice Dove devo posare un fucile di merda Come ho fatto attraverso le proiettive Chi va? Mi scheda la chi è elettometro questa è una testa del abbiamo visto questa testa è un po' sentito come va di cazzo serve qualcosa vediamo ci sta cassetto happy birthday partito La mente è solitamente finita Oh come on now, don't be like that, it's gonna be fun, just wait Cosa, è il padre o il figlio? Chi è chiuso lì dentro? Te Me? Qualcun altro che sta impersonando Vabbè, chi dico, cazzo La versione brutta della nonna? Oh mamma mia Non posso usare la candela in qualche modo per illuminare di più a parte fare questa cosa No Bene Non mi piace veramente anche, è bellissimo delle strane orne Che va a cosa Buon compleanno Cosa cazzo Beh, dobbiamo andare alla torta Cazzo rollo Cazzo rollo I got the light Luca Adesso è diventata una candela accesa Facciamo un jackpot? Facciamo un jackpot di bambini? No Però facciamo un jackpot di candela Non c'è una candela C'è una roba che assomigliava a una candela Ma dubbi, quella è una mela Lanterna? Qua'è una lanterna No Quella è una siringa Lo vedo Questo non si capisce E' un uomo appeso per le mani Questa è una luce? Una campana? No E' un uccello posato su qualcosa di appuntito Un uccello posato su qualcosa di appuntito? Si Come fai a vedere un uccello posato su qualcosa di appuntito Con quella roba lì? Qua non lo scoppio Quello l'avevamo capito tutti Quindi non funziona Si ma io non è che posso Torno indietro C'era dove accendere Si ma quell'enigma secondo me Se è il Beh Allora Faccio Faccio la goccia Però da qualche parte ci deve essere Qualcosa Per capire della doccia Non per capire della doccia Per capire come farla Si ma c'è Ma qui la posso accendere Però c'è la doccia Esatto E' un uccello Ah f***ing disgustivo Uuuh Sì Uuuh Sì Uuuh Uuuh Posso capire la camdena Eeeh Si Un canno No E' un canno No E' un canno E' un uccello Cosa cazzo vuol dire Se devi mettere qualcosa lì Che non hai ancora Non posso metterci la cammera nel secco No Ragiona No Sì Non puoi andare a cazzo duro Ragiona Che l'ho detto Sei bravo a ragionare Falle No Comunque Lo stream mi ha preso un po' periculo Infatti Quasi così lo tiro giù E lo Ah Esatto Che è quello che volevo usare la La candela Però non la cosa Non possiamo scoppiare Però posso aprire questo Cosa c'è dietro? Ho visto quel coso Wow Scoppiare appena tocca la candela Ah ah F*** Oh ecco Mi ha detto il palontino di gas Se faccio poi non lo so Sì ha senso però C'è una chiodina Quella più che altro fa un po' male La chiamo adesso nello stesso posto al tizio No No dimmi te No dimmi te Veramente Oltre il calamo Scusa un attimo Fammi vedere se Torno subito Ci sono Faccio un attimo così Secondo me è andato un attimino A farsi potere Cioè non totalmente Quasi Ogni tanto capita Se la vi Intanto le cose si fottono Si rompono Si fanno male Bene In quale buco Questo? No Non puoi impugnarlo perché gli manca il dito Io non posso accendere il calamo No mi sa che devi trovare il dito prima Dovrei pulire quel coso invece Ah anche Scopulendo quella roba E passa sotto la doccia Sotto la doccia Non lo so Può essere Perché sarà la doccia Lì Anche Niente Non c'è la doccia No È lungo La candela Bene Non devo bruciare il cannocchiare Devo scendere la candela Perché vorrei bruciare il cannocchiale Cioè Che problemi ho secondo voi Allora Fatemi guardare dentro di lui Cioè se non c'è niente Ok È l'effetto del cannocchiale Le foot Si è veramente polarizzato Ok Non vedevo il tasto per smettere Perché stavo diventando abbastanza scemo Qui sono già esploso Qui c'è la doccia Oh Ma qua ci sono delle immagini Ecco qua Tizio impiccato Uccello Uccello Poggiato su qualcosa E bambino Tizio impiccato Uccello Uccello Qual è l'uccello? Questo È bambino Cosa c'è? Mmm Che cosa carina Addirittura molto duro Cioè Ha un paletto Ficcato nel culo Ma È duro È duro Ok E' un paletto Lo ficchiamo anche in vetro altissimo Adesso Vediamo E ti ficco Un pupazzo di paglia Inseramente a casa ci faccio con un pupazzo di paglia E anche se ci posso Beh Torniamo in mezzo ai palloncini C'è non molto Intanto la posso dovevo saperla Eh sì Non posso scriverla io No Devo leggere qualche parte Non è che magari è scritto È scritto solo io Secondo me devo Non è scritto Non c'è qualcosa che devo vedere Qualc'annocchiale Però insomma Delle immagini E' abbastanza chiaro Che dovevo guardarli Ma scusa Lì non c'è niente È scritto È scritto Qui Here Eh No Questa è la stanza chiusa Eh Stanza è la parte Vanno indietro Un po' più No no Vanno vedere quella parete No no La parete dove c'è il jazz Indietro No Indietro La parete dove c'è il jazz È quella Buttati in fondo Qua Qua Girati 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 La parete non c'è qualcosa di strano No Sembra una persona No Allora Niente Non devo solo vederla meglio Sì che è Ne ho passati 38 volte qui Sì ma non sono riuscita a vederla Nella persona Sì E sarà un quadro Ah no è un indiano Vedi Sì 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 ma è un dipinto Sì Poi gli han piccato un tubo nelle palle E l'altro lì Ognuno le come fai Buono di qui non si va Secondo me tu hai qualcosa che mi senti a dire Ma ti posso scegliere un calabino Combina e si combina Di combinare qua non c'è nulla Qua Dove hai da mettergli quello che hai tu Cioè il tè nella mano Invece che ficcato nel petto Questo E fa lavoro da un pugnale Perché mi manca il dito Mi manca il dito Ah lui non può stare niente di questi oggetti Solo il cannocchiale Sì Di fatto c'è un altro ambito lì Anche questo è esaminare o usare Non fa nient'altro Eppure Boh Cioè non c'è niente Eh guardiamo meglio Non può non esserci niente Mi spiace Lo so mi sento un po' stupido E' una donna tra l'altro Sono una donna? Guarda la La tombra su un muro Un muro non una terra Ma sta di donna I capelli Anche io ce li ho legati Non è che se guardo adesso c'è anche la password Sarebbe troppo bella Però Non posso farci nulla lì No Non posso far scoppiare questi Non so nulla Pensiamo fuori dagli schi Non deve essere una cosa troppo facile Troppo bella Troppo evidente da vedere E vederla proprio bene Non posso usare il cannocchiale e intanto usare Un altro oggetto Un altro oggetto dici Un altro oggetto Solo una volta Vedete c'ho che bigliettino qua dentro Uno di questi palloncini come c'era quello che mi abbia raccolto Non lo so Adesso non so Non c'è a pensare tutto Inizia in pazienza Scoppiamo tutti i palloncini Rompiamo le palle Dai sobbia Ancora non c'è niente Cosa sul tetto They hear me un po' Che simbolo Non so cosa sia Non l'abbiamo ancora visto Esatto Non so Non so Non so niente Faccia un po' la voce Tu lo stai dispegendo Forza Non so Non so Non so Ancora qui Non muovo Di mettere la La candela La candela accesa Questa Posso caricare il tizio Posso caricare il tizio Che cosa farà mai Scusate Il carico a molla Hai un po' paura Ma quanto sei brutto Ma quanto sei brutto Ma che cosa figlia Ma che figata Mi manca il dito Ma ci siamo Manca il dito Sono rimasto veramente Un scioccato Bello Bellissima come cosa Ora sta cosa dura Non so cosa faccio Devo rientrare ancora Lì dentro È bello Ecco lì Non è una buona idea Non è una buona idea Guardarti dentro Neanche immagino Forse devi riprendere la chiave Dal tizio Prova Non è una buona idea Può spegnere la torcia Potrebbe E' una buona idea E' una buona idea Alla fine Eventualmente si riempirà la stanza Ho capito ma Io dove lo trovo un dito? Non lo puoi riduciare Questo Forse si Eh Vedi che ti trovo tutte le idee Queste sono una bella idea Ed è un dito Oh Ciao il dito del manichino Quindi appartiene a te No Ok Prendi il calamaio E mi scrivi la mia bella password What the fuck is this? What are you doing? Oh man No Oh mamma Ok Non toccarlo mai più Sono senza parole Aspetta Non si sa mai Non si sa mai Magari c'è qualcosa alla brutto Ma Wow Io sono senza parole È bellissimo No 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 Quando sai cosa fare Ci metti un attimo Si 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 Ci deve venire l'idea di farlo Aspetta Non si sa mai 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 Happy Birthday Happy Birthday No Ma 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 Malato Malato Forca troia Malato Malato C'è il video integrale Noi non va la chat Tutti gli altri video Oh Sono strozo Malato Malato Cazzo che so Carburato bene però La lampadina Una bella lucina Oscura Ma quando è che andiamo avanti? Da poco 40 minuti Si No meno 40 minuti Ok Quindi Cosa abbiamo imparato da questo video? Cosa abbiamo imparato da questo video? Niente Che è un gioco Macabro e cattivo Esatto Finiamo il video? Non so più che altro quanto tempo possiamo perderci A fare quelle dimoni davanti Va bene Per cui Si direi Salviamo E E riaviamo il video Perchè Insomma Adesso iniziano ad essere anche di un certo peso Bene Torniamo tra pochissimo Facciamo giusto Massimo un paio di minuti di pausa E torniamo sia a Che a registrare Che a registrare A dopo Che a registrare Che a registrare Che a registrare